oggi andiamo fa un pauletto un pauletto o il pan bauletto il pauletto e che cos'è il pauletto un panetto morbido perfetto abbiamo bisogno di 250 ml di acqua 500 grammi di farina 60 ml di olio 10 grammi di sale e due cucchiaini di zucchero io ho usato direttamente la farina con il lievito ma se non l'avete aggiungete una bustina di lievito grazie a tutti sembra riposare senti ma ieri sera papà ti ha letta la fiabba dei tre porcellini sì e la morale qual è? devi rimanere a casa con mamma e papà hai visto? bella morale! così non ti succede niente vero Gaia? sì adesso devi riposare per 100 minuti 100? 30? 30 minuti a questo punto bisogna far riposare il panetto per 10 minuti non è 30 minuti la rifammo ma facciamo finta che va bene? facciamo finta che va bene perfetto l'impasto va bene così che non appiccica? sì perfetto fammi le manine toccalo ok non appiccica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti What went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this.